Guardare all'Europa sempre più come luogo di opportunità, come sogno dove poter realizzare il proprio futuro, come orizzonte per le nuove generazioni e le bambine e i bambini di oggi. Questa è l'essenza stessa del Next Generation EU che siamo chiamati a realizzare nel segno della sostenibilità ambientale, dell'innovazione, della ricerca, ma è anche un ideale passaggio di testimone che è in atto tra chi l'Europa ha contribuito in questi anni a crearla e chi oggi invece è chiamato a un ulteriore sforzo, quella di renderla ancora più forte e credibile, uno sforzo che non è semplice e che richiede il contributo di ciascuno di noi, di tutte le istituzioni. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti e per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. La Toscana sta in Europa, crede nell'Europa, guarda all'Europa come il livello istituzionale fondamentale per traguardare un futuro che sia carico di speranza per le giovani generazioni. Noi all'Università Europea intendiamo naturalmente fare la nostra parte, non solo nella conferenza sul futuro dell'Europa, ma anche più largamente nel collaborare con le forze vive regionali, nel affrontare le sfide di domani. Spero che avremo modo insieme di definire modalità di collaborazione per il futuro, di dare un nostro contributo alla costruzione europea.